Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Tappeti Tappeto Amadan 253X162. Questi tappeti vengono annodati in 500-600 villaggi su un'ampia area che si estende attorno alla città di Amadan nella Persia Nord-Occidentale. Ciascun villaggio o gruppo di villaggi, dà un tocco ben personalizzato ai tappeti prodotti. Questi tappeti sono solitamente molto colorati e realizzati con lana di buona qualità. In generale, hanno un buon rapporto qualità-prezzo e sono ottimi tappeti di uso corrente. Seconda scelta. La preghiamo di notare che, la forma del tappeto è asimmetrica. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione. Grazie. 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 Grazie.